Beh, in via del tutto eccezionale registro la sera per la mattina, perché l'argomento è abbastanza interessante. Volevo leggere con voi il coma 3 dell'articolo 148 del codice della strada. L'articolo 148 è molto bello, parla del sorpasso e della manovra in assoluto più pericolosa ammessa nel codice della strada. Il coma 3 dice il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, quindi si intende la freccia, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad un'adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semi-carreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare, quindi si utilizza l'altra corsia, quindi una corsia per ogni fila dei veicoli in questo caso. Sottolineo in particolare ad un'adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Rapidamente, rapidamente, vinto i limiti di velocità, il primo possibile tenendo conto delle distanze di rispetto, la distanza di sicurezza e quindi in questo caso lo spazio di reazione, la distanza minima di sicurezza. Una volta ne abbiamo parlato e magari ne approfondiremo meglio in un altro audio. Un'adeguata distanza laterale. Gioco forza, se io faccio un incidente perché quando rientro e vado addosso alla macchina che ho sorpassato, vuol dire che non ho tenuto un'adeguata distanza laterale e dovrà essere eventualmente chi ha fatto l'incidente a dimostrare che non è così. C'è un progetto di legge attualmente in Parlamento, un'idea proposta da alcuni parlamentari, di introdurre nel nuovo codice della strada che si sta discutendo una distanza minima laterale per il sorpasso delle biciclette di un metro e mezzo. Non so se questa può essere una buona idea oppure no, perché è vero che esiste così un valore fisso che è la distanza minima laterale rispetto alla bici che si deve sorpassare, però è anche vero che mettendo questo valore fisso si rovescia l'onere della prova. Cioè dovranno essere eventualmente le autorità di controllo a dimostrare che durante il sorpasso se ci sarà un incidente con qualche ferito, chi ha sorpassato ha tenuto quella distanza e non dovrà più essere invece chi ha sorpassato a dimostrare il contrario. Cioè non ci sarà più la presunzione di colpa perché il valore sarà stabilito e quindi quel coma lì che fa rientrare tutto sulla responsabilità di un'attenzione che è la regola generale per il conducente, che è il famoso articolo 141, cioè il fatto che il conducente deve essere attento a qualsiasi forma di pericolo, in qualche modo verrà a cadere perché esiste un valore fisso un metro e mezzo e quindi uno potrà dire io quel metro e mezzo l'ho tenuto, è stata la bicicletta che si è spostata verso di me. Ora stiamo parlando di questioni molto fini ma onestamente il legislatore dovrebbe scrivere un po' meno e ragionare un po' di più perché anche in altri casi abbiamo riscritture tipiche come per esempio gareggiare in velocità sarà vietato più o meno 5 o 6 volte nel codice della strada, forse scrivelo una sola volta fatto bene sarebbe stata una cosa interessante e molto più positiva di quanto può risultare una riscrittura di una norma in questo senso, quella della distanza laterale di sicurezza che probabilmente crea forse tanta confusione e basta. Buona serata a tutti.